Il pallone anche Cialzare lo fa passare da Adami che avrebbe il destro, prova da lontanissimo e balla in rete! La conclusione provata dalla distanza e la traversa centrata in pieno da Adami con il caro De Bevere sulla linea Adami salva. È una buonananza per la Juve, vediamo dopo però perché la Takah presenta al limite, rimontata la grande. L'agreta per la Greta, magari pecca di esperienza però... Dada Adami, scatta Mauro, la vedi? quel cross bonetti anticipata carissimi cercando di adami sul primo palo servita col sacco la traversa di greta adami poteva diventare un altro gol bellissimo